Di un progetto nazionale che l'amministrazione comunale ha sposato non appena ci è stato presentato. Si tratta della realizzazione di una grande coperta costituita da pezzi, diciamo così, di più piccoli di tessuto o di lana realizzati appunto da tutti coloro che vogliono partecipare al progetto. Questa coperta verrà stesa su Piazza Castello e l'8 marzo, quindi in occasione della festa della donna, i singoli pezzi saranno venduti e l'incassato sarà devoluto all'amministrazione comunale di Sassari che provvederà a finanziare gli ulteriori progetti previsti all'interno del progetto Aurora, appunto fatto proprio dal comune di Sassari e che servirà proprio per sensibilizzare tutti i cittadini per attivarsi contro la violenza sulle donne.